Questo è il Consiglio Comunale della disperazione della minoranza. Quello di oggi è il Consiglio Comunale della disperazione della minoranza. Lo ha definito così il sindaco Gian Guido D'Alberto che ha fatto un intervento molto acceso. Lei tra l'altro ha accusato molti dei consiglieri di minoranza che sono stati amministratori di essere responsabili della maggior parte dei problemi che voi avete dovuto affrontare. Questa è storia. È la storia della nostra città. È l'evidenza che i cittadini tra mani conoscono bene. Invece la discussione del Consiglio fa evidenziare proprio questo. Oggi è il Consiglio della disperazione, del fallimento, dell'ulteriore sconfitta di una minoranza che ha fatto un elenco di problemi che per 10-15 anni non ha mai risolto e ha lasciato incancrenire. Chi ci ha amministrato in buona e larga parte, nella gestione della TEAM sicuramente, la gestione di altri enti. È stata l'amministrazione che si è preoccupata del piccolo orticello, dei piccoli interventi finalizzati solo ad ottenere un consenso elettorale che poi però ha lasciato la città senza programmazione e senza visione. Sono due modi diversi di amministrare. Ecco dov'è il cambiamento che abbiamo messo in campo. È più faticoso, ma è davanti agli occhi di tutti. Quindi su questa direzione noi andiamo chiaramente in modo orgoglioso e fieri avanti serenamente registrando ancora oggi, e questo per me è molto positivo, una minoranza disperata, una minoranza che sta tirando fuori argomenti che dimostrano un fallimento che è stato sancito dagli elettori nel 2018 e che oggi è confermato dal fatto che tutti questi problemi non li stiamo affrontando e risolvendo. Lei in un suo intervento in Consiglio Comunale non aveva mai alzato i toni e la voce come ha fatto oggi? Ma perché veramente credo che la disonestà intellettuale sia l'elemento che dobbiamo assolutamente togliere. Si parla di alcuni scricchioli all'interno della maggioranza. Lei oggi ha dichiarato tra virgolette guerra anche alla minoranza. In che situazione si sente in questo momento? Nella situazione che tutti i sindaci vivono in questo momento, con la difficoltà nostra di dover far fronte ad una serie di problemi, ad un elenco di problemi che è molto numeroso, ma che comunque stiamo affrontando quotidianamente. Qui non c'è un'amministrazione, non c'è un sindaco che deve necessariamente stare ad un posto perché altrimenti non sa che fare e voglio restituire quell'onestà intellettuale ad una sede, il Consiglio Comunale, e raccontarla soprattutto alla città.